Guarda, che bello! Hai visto? Ti piacerebbe mangiare lì? Eh sì, eh! Guarda che meraviglia! Quella scuola si vi portava qui e questo è uno dei borghi più belli d'Italia inserito. Ma noi siamo stati soltanto dentro il parco di sicurezza, così hanno luce di pulmon dentro il parco di sicurezza dove c'è il deponito dei pulmon. Visto che è bello però? Noi non siamo proprio usciti fuori dal parco di sicurezza, siamo stati sempre in pulmon. Cioè Ti faccio vedere anche dall'altro lato, guarda. Guarda! Questo è il fiume Mincio. C'è una barchetta per oggi. Sì? Questo è il fiume Mincio che alimenta. La gente può usare una barchetta e andare a girare. Ora è bassa però l'acqua, bisogna farlo quando c'è più di acqua, più di acqua. Non è sicuro che non è più di acqua. C'è una barchetta per oggi. Non è sicuro che sia la barchetta per oggi.